SILA BOSZIA Che fluisca nella mia vita! Alleluia! Pomaszania, 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 prima di questo momento l'unzione. Pregavori per la tua famiglia è finita! Pregavori per la tua casa è finita! Tutte le maledizioni indotte in questo momento! E lo dico che qui ti ha a casa, lo vedi frutto tutto! SILA SWIATO DUCA! La potenza dello Spirito Santo! Lo l'ho fatto io, è lo Spirito Santo che lo sta facendo! In questo momento distruggo questa maledizione! Una maledizione indotta su di voi! Nel nome di Gesù! Su la vostra famiglia! Prima di adesso! Oh mio Dio, alleluia! Voglio che tu ti manifesti nella mia vita! Spirito Santo manifesti nella mia vita, ditelo! Spirito Santo ti vuoi manifestare nella mia vita! Spirito Santo ti vuoi manifestare nella mia vita! Tu vuoi rendermi felice ogni giorno! Liberarmi dai momenti difficili! La mia vita sarà diversa rispetto a quella degli altri! Perché sono eletto da te! Diamo gloria e forza al Signore! Diamo gloria e forza all'Eterno!